La grande fiera del giocattolo, fantasia di Giuseppe Veronese. In una città con tantissimi bambini, era finalmente arrivato l'avvenimento dell'anno. La grande fiera del giocattolo. Natale era infatti alle porte e ogni anno, in questo periodo, la città organizzava la fiera. Era una fiera molto conosciuta. I venditori venivano da tutte le parti del mondo per far conoscere la loro merce. Là vi erano tutti i regali possibili che i genitori potevano fare ai loro bambini per renderli felici.